Le Marche sono un territorio fragile dal punto di vista sismico, fenomeni imprevedibili ma per i quali è possibile agire per mitigare il rischio di danni a persone o edifici. Questo è il senso dell'intervento dell'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi questa mattina alla Mole Van Vitelliana di Ancona, alla giornata di studi e presentazione del volume La microzonazione sismica delle Marche, 10 anni di attività. Il volume è rivolto ai tecnici e agli amministratori comunali e locali per meglio comprendere sia cosa accade sul suolo in caso di terremoto, sia l'importanza della microzonazione sismica per la pianificazione territoriale, così da poter fornire un valido supporto nell'ambito della prevenzione del rischio sismico. Nelle Marche, per quel che riguarda terremoti, abbiamo una certa esperienza, nel vero senso della parola, nel senso che le successioni che sono avvenute negli anni, anche storicamente, ma anche negli ultimi anni e anche molto recentemente, in questi giorni, ci hanno messo alla prova e di conseguenza hanno anche fatto sì che l'esperienza di chi opera, come la nostra protezione civile e i tanti tecnici sui territori, sono stati continuamente messi di fronte a queste emergenze, a questi fenomeni, a volte anche luttuosi e molto gravi purtroppo, come negli ultimi anni, di conseguenza si è automaticamente creata anche la condizione di mettere in campo sempre proprio forti di queste esperienze, diciamo, delle attività, delle iniziative che sono volte non, diciamo, a prevedere, perché purtroppo sono fenomeni alquanto imprevedibili in buona parte o in gran parte, però delle misure che in qualche modo possano e creare le condizioni di, diciamo così, rispondere alle emergenze nel modo più appropriato ed utile, e su questo c'è una grande efficienza anche dalla nostra protezione civile, ma anche di tutta una serie di volontariato, di attività sui territori, anche di amministratori e tecnici sui territori in maniera molto diffusa, ma anche di mettere in campo delle pratiche sempre più innovative, ripeto, non tanto per prevenirle, ma per far sì che quando questi fenomeni avvengono ci sia già una macchina, diciamo così, di soccorso, di attività, di intervento, già più o meno predisposta. Possiamo dire che la regione Mar, che è tra le prime regioni in questi dieci anni, che ha sviluppato questo progetto di microisodazione sismica, cioè di prevenzione del rischio sismico, con un'attività di studio che ha svolto su tutti i comuni marchigiani, per cui un percorso è partito dopo il sisma dell'Aquila del 2009. Nel 2010 il Dipartimento finanzia un progetto per il rischio sismico, concedendo dei finanziamenti alle regioni per poter fare questi studi di microisodazione sismica. La regione Marche ha cofinanziato insieme al Dipartimento nazionale, per cui è allo Stato, questo progetto e oggi veniamo a dire cosa si è fatto in questi dieci anni di percorso, che è stato un percorso condiviso. Noi della Protezione Civile utilizziamo il termine abbiamo fatto sistema, cioè abbiamo coinvolto chiaramente tutti gli enti, i comuni in primis, per cui ringrazio l'Anci per questa collaborazione e tutti gli ordini professionali. Siamo riusciti a fare dei protocolli di intesa con inizialmente geologi, architetti, ingegneri e geometri, per poter fare questa attività, per poter fornire alle amministrazioni comunali un supporto nell'ambito della prevenzione sul rischio sismico.